E non ricordi, sono punti di vista, siete voi che ci credete in questa giungla sempre più mista Con persone di vario colore, voglio sapere quanto costa una canna, patente e colloquio Per un presunto lavoro passo al partito, no non ce la faccio, grazie puoi scriverlo per inciso Mi muovo lento tra la gente che insiste, per poi vedervi esplodere col suono del sound system Grazie a tutti Grazie a tutti